Azzurra Ozolo Maddalene I padroni di casa non hanno dimostrato la solidità necessaria nell'ultima gara facendosi rimontare il doppio vantaggio. I biancoverdi dovranno sfruttare questo punto debole se vogliono fare male alle azzurri. Cristo Rebesenello Impegno difficile per i bianco-blu, chiamati a recuperare il distacco dalla zona play-out in casa di una squadra in ottima condizione. Arriverà la seconda vittoria consecutiva per i giallorossi? L'Elo Castel San Giorgio Le due compagini sembrano abbondantemente salve e possono giocare questa partita a mente sgombra, ma è vietato abbassare la guardia per non trovarsi inguaiati in una situazione pericolosa. Spor Maggiore Mattarello Il pareggio strappato in extremis dai giallorossi contro il sacco dimostra la buona condizione fisica e la voglia di crederci sempre. I rosso-verdi ritroveranno quella vittoria che manca da due giornate? TNT Montepeller Aldeno La pessima prestazione nel derby in Oneso ha complicato di molto i piani salvezza dei padroni di casa. I locali sono chiamati a riscatto contro i giallorossi, sconfitti pesantemente nell'ultimo turno. Trambileno Sacco San Giorgio Ventesima giornata negativa per le due formazioni. I nero-verdi hanno perso ora la salvezza in salita, mentre i viola non sono riusciti ad accorciare sulla vetta. Chi troverà la giusta reazione? Volano Marco Nello scontro ad alta quota, i biancorossi cercheranno di piazzare la vittoria decisiva per tentare l'allungo finale e chiudere ogni possibilità di rimonta dei roveraitani. Pronostico assolutamente incerto. Nello scontro ad alta quota, i biancorossi cercheranno di piazzare l'allungo finale